Il Piemonte e l'Abruzzo insieme per lo sviluppo tecnologico e la semplificazione amministrativa e il contenuto del protocollo d'intesa firmato recentemente dai due consigli regionali un passo verso l'integrazione di politiche pubbliche e la condivisione di competenze. Tra gli impegni l'individuazione di standard comuni, il riuso di software e dati rilasciati in formato aperto, progetti di dematerializzazione e strategie di open government.